Un sospiro lungo, lunghissimo, che ha attraversato l'Italia da Brescia fino a Pescara. Lo ha tirato Marco Baroni al fischio finale della partita di sabato, ma lo ha tirato anche la società. La vittoria di Brescia per il Pescara ha un valore che va oltre i tre punti che sono andati a rinsanguare una classifica sempre più anemica. Vale perché cambiare un allenatore in corsa non è mai una cosa positiva. Significa rinnegare le scelte iniziali e ammettere un fallimento tecnico sotto tutti i punti di vista. Non sappiamo come il campionato del Pescara da Brescia in poi si evolverà. Sappiamo bene che sabato per Baroni era l'ultima spiaggia, dalla quale ne è uscito salvo con le sue gambe. Soprattutto con l'appoggio di una squadra che sembrerebbe, da quanto visto al Rigamonti, non ha mai abbandonato il suo allenatore. Anzi, ironia della sorte, Baroni è stato salvato proprio da chi era stato accantonato da qualche tempo. Uno come Riccardo Maniero, per esempio, autore della doppietta decisiva che dopo il gol è corso verso l'allenatore ad abbracciarlo e a rassicurarlo, a dirgli che quel gol, quella vittoria erano per lui, per la sua panchina. Scene d'altri tempi o per meglio dire scene che si vedono sempre meno, visto che quando un giocatore perde il posto da titolare vede nell'allenatore il suo nemico numero uno. La riflessione però deve essere più ampia. Il Pescara con la vittoria di sabato non ha risolto tutti i suoi problemi. Non vogliamo nemmeno fare la tara all'avversario, per carità, visto che in casa Biancazzurra i problemi erano ben superiori che in quella bresciana. Però la squadra ha evidenziato ancora qualche lacuna e difficoltà, soprattutto in fase di manovra. Il passaggio da un modulo 4-3-3 a un altro 4-4-2 non è cosa semplice. Ci sono movimenti e situazioni che cambiano e qualcuno, vedi Biarnason, non è che si sia trovato pienamente a suo agio. Il test di domenica prossima in casa con la capolista Frosinone è l'occasione giusta per valutare se quello di Brescia sia stato il classico colpo di fortuna oppure se sotto c'è qualcosa di serio e duraturo. In poche parole, bisogna vedere se la luce è quella dell'uscita dal tunnel. Il Lanciano invece non si ferma più. 22 punti in 13 giornate, quinto posto in classifica e a tre punti dalla coppia di capoliste non sono dati da far passare sotto silenzio. Ormai è chiaro che non si sta parlando più di miracolo frentano, ma di una realtà che ha saputo calarsi perfettamente in questo campionato dove il blasone e il nome non contano più. Per capirlo si prega di dare uno sguardo a chi compone la coppia di testa, Carpi e Frosinone, due squadre che la Serie A fino ad oggi l'hanno vista solo in TV. Tanto è vero che delle otto che fanno parte fino ad oggi di coloro che sarebbero promosse o prenderebbero parte ai play-off, solo tre hanno un passato da massima serie, Avellino, Bologna e Livorno. Non solo le punizioni di Carlo Mammarella dunque, ma equilibrio, compattezza e sicurezza dei propri mezzi, nonostante la rinuncia forzata per mesi al Bomber Cherry, uno di quelli che in questa categoria fanno la differenza. Sabato prossimo i frentani andranno a Latina, sulla carta la partita è di quelli abbordabili, ma attenzione, il gioco adesso si è fatto duro e siamo ad un momento del campionato dove non si può più scherzare. Uscire indenni domenica potrebbe significare molto per il futuro del campionato frentano.